E buongiorno ancora con questi audio sull'autostima, oggi 13esima parte sembra sull'autostima, non mi stancho a dire che si chiama autostima perché nessuno te la regala, te la devi auto, prendere qui auto, cioè lo devi fare tu, devi stimare tu, ti devi aiutare tu, ti devi ispirare tu, ti devi fortificare tu, quindi autostima devi stimarti tu perché nessuno te la regala, è la mia usuale, ormai in questi audio l'avrai ascoltato, testimonianza di come l'autostima iniziò ad arrivare e sta arrivando, si sta fortificando, nagonè che ho finito assolutamente, quando uno dice uno io ho finito, io sono arrivato, veramente è arrivato, veramente è finito, quindi no, io sto continuando ancora nutriendo la mia autostima. La mia autostima arrivò, iniziò ad arrivare quando ho ricevuto Cristo nel mio cuore, Gesù nel mio cuore, l'ho accettato e quando ho iniziato seriamente, attenzione, sottolineo, seriamente, non legge qualche foglio di calendario così, non si cresce nell'autostima così, quando ho seriamente letto, meditato, studiato e proclamato con le mie labbra la parola di Dio, lì iniziò ad arrivare l'autostima, si sta fortificando, sta crescendo, si sta sviluppando sempre di più, quindi se tu pensi che l'autostima venga dall'oggi al domani così, con un foglio di calendario, con una spolverata di lettura di Bibbia ogni tanto, oppure perché tu delica agli altri di pregare per te, beh scorditi che tu avrai un'autostima ma sarai sempre sfigato, farai sempre parte del club degli sfigati, del club degli stressati, del club dei falliti, quindi quanti invece potrai appartenere alla schiera dei campioni? La schiera dei campioni sono quelli che hanno imparato l'arte di fortificare se stessi, l'arte di autostimarsi da se stessi, iniziando ricevendo Cristo nel proprio cuore e facendo aumentare questa autostima step by step, come dico sempre, passo dopo passo, attraverso la lettura, la meditazione, lo studio e la proclamazione della parola di Dio. Allora oggi voglio parlarvi, per avere una buona autostima, riconosci quello che hai, quello che hai, e poi tra parentesi e curalo, riconosci quello che hai e curalo, riconosci i beni che Dio ti ha dato e curali, Dio ti ha dato dei beni, forse tu non te ne accorgi, per questo molti sono sfigati, sono sempre senza autostima, perché al posto di guardare quello che hanno, guardano sempre all'erba del vicino che è sempre più verde, e non riescono a vedere le benedizioni che Dio gli ha dato, la salute che Dio gli ha dato, la forza che Dio gli ha dato, i talenti che Dio gli ha dato, la famiglia che Dio gli ha dato, la moglie o il marito che Dio gli ha dato, i figli che Dio gli ha dato, la chiesa che Dio gli ha dato, i fratelli che Dio gli ha dato. Quindi inizia a guardare le cose che non hanno piuttosto le cose che hanno e invece cadono nella depressione, nell'oppressione e non aumentano mai l'autostima, non crescono mai nell'autostima. Quindi impara a riconoscere quello che hai e curalo, riconosci e cura quello che hai. Prima che ti viene tolto in Luca 16, al verso 25, la Bibbia ci parla di una storia molto bella del ricco e il mendicante Lazzaro, sicuramente la conoscete, no? E qui c'era questo dialogo tra lui e padre Abramo, quindi nell'aldilà, questa persona che era, tra virgolette, nell'Hades, e quindi soffriva in mezzo alle fiamme, fiamme inteso come tormento. E il verso 25 dice, ma Abramo gli disse figlio ricordati che tu hai ricevuto i tuoi beni durante la tua vita e Lazzaro, similmente i mali, ora invece egli è consolato e tu sei tormentato. E notate che questa persona si lamentava, cioè si lamentava perché giustamente era nei tormenti dell'Hades, perché uno che non ha Gesù nel cuore non va in gelo quando muore, va nell'Hades. L'Hades è una prigione, un luogo di tormento, per quello che fanno la scuola biblica con noi, studieranno queste cose, l'Hades, che cos'è l'Hades, che cos'è lo stagno di fuoco di Zolfo, chiudo parentesi. Quindi questa persona si lamentava e Abramo gli disse ricordati dei beni che hai ricevuto, ricordati che tu hai ricevuto i tuoi beni durante la vita. Dio è un Dio che dà dei beni e se tu non riconosci quello che tu hai, i beni che tu hai, beh per questo ti senti sfigato oppresso e depresso, perché guardi sempre il terreno degli altri, l'erba del vicino che è sempre più bella. Senza che tu impari, riconosci i beni che Dio ti ha dato, quindi devi imparare a dare valore a te stesso e a quello che hai, dare valore ai talenti che tu hai, ai doni che tu hai, a una chiamata che Dio ti ha dato. A volte ci sono credenti che sono in crisi perché dicono non so che talenti ho, non so se ho i doni, quello c'ha i doni, quello ha i talenti, quello fa questo, quello fa quell'altro e così non crescono nell'autostima. Perché non crescono nell'autostima? Perché non riconoscono quello che hanno? Ma pastore che cosa ho io? Io non faccio niente, non sono nessuno. Ma come? Sei un figlio di Dio, sei un figlio di Dio. Hai accettato Gesù nel tuo cuore, hai lo spirito di Dio, lascia perdere i doni, lascia perdere i talenti, lascia perdere queste cose. Quando la Bibbia dice che quando tu inizi a capire la chiamata che Dio ha per la tua vita, se Dio ti chiama a fare qualcosa, automaticamente lì dentro ci sono i doni. Ci sono i doni, quindi molti cercano i doni piuttosto che il donatore, molti cercano i doni piuttosto che la chiamata di Dio. Tu prima avvicinata a Gesù, perché la Bibbia ci insegna in Primo Corinzi, capitolo 1, dice che il versetto numero 9, se non erro, però devo andare a controllare subito la Bibbia per evitare che erro o sbaglio. Ecco, infatti non ho sbagliato. Primo Corinzi 1, 9, dice la Bibbia, fedele è Dio dal quale siete stati chiamati alla comunione del suo figlio Gesù Cristo, nostro Signore. Dio ti ha chiamato alla comunione, Dio ti ha chiamato ad avere comunione con Lui, come si ha a comunione con Lui? Con la parola, con la preghiera, stando assieme con la Chiesa, Chiesa locale, Chiesa virtuale, assieme alla Chiesa, con i contatti con i cristiani. Quindi Dio prima ti ha chiamato alla comunione, ma pensa prima ad avere comunione. Comunione significa avere contatto con Gesù, con la parola, con la preghiera. Prima cerca di avere comunione con Lui, poi Dio ti aiuterà a capire qual è la tua chiamata. Nella chiamata ci sono i doni. Invece l'errore dei talenti qual è? Cercano i doni, ma non cercano Gesù. Cercano i talenti, ma non cercano Gesù. E allora che ti servono questi doni e questi talenti? Per farti vedere? Per farti vedere quando sei bravo, quando sei brava, quando sei unto, quando sei stupido, quando sei stupida? Cioè ti servono a te i doni piuttosto che il donatore? Molti cercano i doni piuttosto che il donatore. E non riconoscono quello che hanno. Invece inizi ad apprezzare già il fatto che sei un figlio di Dio, sei salvato col sangue di Gesù, fai parte di una chiesa, leggi la Bibbia, hai una famiglia, hai dei figli. Inizi ad apprezzare quello che hai e cura quello che hai prima che ti viene tolto. E allora te lo farò vedere che il diavolo è così bravo da toglierti quello che hai. Impara, impara a coltivare quello che hai e dai valore a quello che hai. Dai valore al fatto che sei un figlio di Dio. Lascia perdere i doni, i talenti, lascia perdere la chiamata per ora. Per ora tu sei chiamato ad avere comunione con Gesù. Tu non potrai essere mai utile nel regno di Dio se prima tu non hai comunione con Gesù, comunione col suo spirito, comunione con la sua parola, comunione con la chiesa. E poi come si fa a scoprire la chiamata? Un mentore, un padre spirituale, ti aiuterà a capire qual è la tua chiamata. Da solo non ci riuscirai a capirlo. Ma c'è qualcuno che ti aiuta a capire la tua chiamata. Questo lo vediamo con Giosuè. Giosuè aveva a Mosè. Ma lo vediamo anche nella vita di Eliseo. Eliseo aveva a Delia. Ma lo vediamo anche nella vita di Paolo. Paolo, Timoteo. Timoteo aveva Paolo. Nell'Antico Testamento il profeta Samuele aveva Eli. Quindi qualcuno ti aiuterà a introdurti, a farti capire quale tipo di chiamata tu hai. Ma per ora, quello che è importante, riconosci quello che hai. Riconosci il fatto di essere un figlio di Dio. Lascia perdere i doni. Lascia perdere le chiamate. Prima cerca di avere comunione con Gesù. Prega ogni giorno. Leggi la Bibbia. Cerca nella cameretta. Invoca lo Spirito di Dio. È inutile che cerchi di fare. Prima devi dimorare. Che bella questa frase. È inutile che cerchi prima di fare. Prima cerca di dimorare. Quando tu dimori alla presenza di Gesù, poi Gesù ti manda. Come i discepoli. Gesù chiamò discepoli. Rimanevano con Gesù. E poi Gesù li mandò. Qui invece c'è una gara incredibile. E alcuni sono stressati. Perché non riconoscono quello che hanno. Non riconoscono il fatto che hanno Gesù nel cuore. Se ce l'hanno, chiaramente. Non riconoscono il fatto che sono salvati per grazia, mediante il sangue di Gesù. E non andranno più all'inferno. Stanno disprezzando queste cose meravigliose. Quindi riconosci quello che hai. Riconosci la famiglia che hai. E curala. Riconosci i figli che hai. E curali, Signore. Dacci grazia. Perché qui spesso siamo mancanti anche con i nostri figli. Per cui riconosci quello che hai. Riconosci quei pochi soldi che hai. Gloria a Dio. Aumenteranno. Riconosci e ringrazia Dio per la casa che hai. Le cose migliori verranno dopo. Isaia 1.19 dice Se siete disposti ad obbedire, mangerete i frutti migliori del paese. Per questo alcune persone non hanno autostima di loro stessi. Perché non riconoscono quello che hanno. E Dio dice perché ti devo dare oltre se tu non riconosci già quello che hai. Quindi è importante questo. Coltiva quello che hai. Coltiva quello che hai. Dai valore a quello che hai. Connettiti con te stesso. Connettiti con te stesso e inizia a ragionare per favore. Cioè non andare a vedere quello che non hai. Guarda quello che hai. Questo è molto importante. Mi sta venendo in mente una frase. Quando una volta i discepoli non avevano di che dare a mangiare alle folle. No? Alle folle. E Gesù diceva che cosa avete nelle mani? Diceva signore non abbiamo nulla. Abbiamo cinque pani, due pesci. Portatemi li qui. Messi nelle mani di Gesù, Gesù li benedisse, li diede nuovamente ai discepoli e ci fu una grande moltiplicazione. Per cui riconosci quello che hai. A volte se vuoi prosperare, no a volte. Se vuoi prosperare devi dare. Luca 6,38 dice datevi sarà data. A volte se non metti nelle mani le cose che hai non moltiplicano. Se non metti i tuoi soldi nelle mani di Gesù seminando per l'opera di Dio non moltiplicheranno. Se non metti la tua famiglia nelle mani di Gesù queste cose non si moltiplicheranno. Scusate, la tua famiglia non prospererà. Metti tutto nelle mani di Gesù, riconosci quello che Gesù ti ha dato e mettilo nelle mani di Gesù e Gesù li farà prosperare. Quindi connettiti con te stesso, lascia perdere, non guardare agli altri. Fai una connessione con te stesso e riconosci quello che hai. Fa una checklist di quello che hai, la famiglia e la chiamata di Dio, la chiesa che stai avendo. Questi file che ti sono donati gratis, riconosci la benedizione che hai. Riconosci, connettiti con te stesso, sii presente per favore. Sii presente perché a volte uno ha un ministro di Dio che lo cura e uno non è presente, ha una chiesa e uno non è presente. E va a guardare altre cose, ecco perché poi non c'è l'autostima. Perché ti senti sfigato, certo, perché non riconosci quello che tu hai. Quindi sii presente, assumi il linguaggio positivo di dire gloria a Dio. O una chiesa virtuale o una chiesa locale. Gloria a Dio una scuola biblica. Gloria a Dio un mentore che si prende il cuore di me. Gloria a Dio una moglie. Gloria a Dio un marito. Gloria a Dio uno figlio. Gloria a Dio una casa. Non è grande ma gloria a Dio non sono sotto i ponti. Connettiti con te stesso, sii presente, assumi tu un linguaggio positivo e sii abile poi nel semplificare. Per forza non devi avere la macchina più bella che ci sei, sii abile a semplificare. Abbiamo una 500, abbiamo una piccola macchina. Gloria a Dio, grazie Signore. E grazie che mi darai altre cose sicuramente. Quindi sii abile a semplificare, a rendere le cose semplici. Gloria a Dio. Non ti poi permetti di andare a mangiare al ristorante, te ne vai nei parchi. E qui è molto importante. Sii abile nel semplificare, non nel complicare la tua vita. Non andare a spendere i soldi per un ulteriore telefonino di ultima generazione, un computer dell'ultima generazione che forse manco funzionerà. Semplifica, prendi le cose che ti servono. Semplifica, impara a semplificare, a rendere semplici le cose. La semplificazione è l'ultima delle sofisticazioni, qualcuno disse. Le cose più importanti non sono le cose complicate, ma le cose semplici. Gloria, gloria, gloria. Capisci? Quindi riconosci quello che hai, apprezzi quello che hai, ringrazia Dio per quello che hai. Primo Corinzi 4,7 dice Chi infatti ti rende diverso? Chi infatti ti rende diverso? E che cosa hai che tu non abbia ricevuto? O se l'hai ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? Guardate quanto è importante questo. Dice, chi infatti ti rende diverso è che cosa hai che tu non abbia ricevuto? Cosa non hai ricevuto? Quindi impara a riconoscere quello che hai ricevuto, per favore. E curalo. Dai valore a te stesso. Dai valore a quello che hai. Impara a dire no nella tua mente quando ti dice Guarda, tu non hai questo, tu non hai quell'altro. Ah, quella persona è così, quella persona ha i soldi. Impara a dire no, non mi interessa nel nome di Gesù, io riconosco quello che Dio mi ha dato. Per favore coltiva quello che hai. E dai valore a quello che hai. Connettiti con te stesso. Sii presente. Assumi un linguaggio positivo. Sii abile nel semplificare. La Bibbia dice in Colossesi 4,17 Dite ad Archippo, bada al ministero che hai ricevuto dal Signore per adempierlo. In questo caso questa persona aveva un ministero e lo Spirito Santo attraverso Paolo dice Bada quello che hai ricevuto, bada il tuo ministero che hai ricevuto dal Signore per adempierlo. Bada la tua famiglia che Dio ti ha dato per adempierlo. Bada i doni che Dio ti ha dato per adempierlo. Bada le cose che Dio ti ha dato e adempie prima che il diavolo rubi tutto quello che hai. Apocalisse 3,13 Ricordati dunque come hai ricevuto e udito, serbalo e ravvediti. Se tu non vedi io verrò su di te come un ladro e non saprai quale ora verrò su di te. Ricordati dunque quanto hai ricevuto. Attenzione. Ricordati dunque quanto hai ricevuto. Bellissimo questo. Attenzione a queste parole. Ricordati quanto, ricordati quanto, quanto, ricordati come hai ricevuto, quanto hai ricevuto. Ricordati come hai ricevuto e quello che hai ricevuto. Questo è importante. E ancora capitolo 3, versetto numero 12, 11, facciamo delle 11, 3,11. Dice, ecco io vengo presto, tieni fermamente ciò che hai affinché nessuno ti tolga la tua colonna. Tieni fermamente ciò che hai, tieni la tua famiglia, tieni la chiamata che Dio ti ha dato, tieni in mano le cose che Dio ti ha dato, tieni in mano il tuo matrimonio, tieni in mano la tua famiglia, riconosce quello che hai. Riconosci quello che hai. Impara a dire no al diavolo quando ti dice che tu non hai. Impara a coltivare quello che hai e dai valore a quello che hai. Connettiti con te stesso, sii presente nelle cose che Dio ti ha dato, assumi un linguaggio positivo, sii abbi nel semplificare. E cosa dire più? Dio ti benedica. Anzi, un'altra cosa te la devo dire. Non perdere quest'audio che hai.